Il Tolmezzo continua a correre, l'Azzurra non funziona più e soprattutto non riesce più a chiudere bene la sua porta. Dieci gol subiti nelle ultime due partite. Subito Tolmezzo, dopo pochi minuti Cucchiero fermato dal portiere, ma l'azione prosegue. Baruzzini ancora per Cucchiero che vede il movimento di Motta e il bomber batte così il numero uno dell'Azzurra, vantaggio Tolmezzo. Ancora la squadra di Mister Serini, il cross di Faleschini sul secondo palo arriva Motta. La difesa dell'Azzurra proprio non riesce ad opporre resistenza. La doppietta di Motta, poi ancora la conclusione di Sabi Dussi, l'unica giocata dei ragazzi di Bortolussi, questo destro fuori di Ranocchi. Poi nella ripresa ecco la giocata più bella, quella di Bastianich che trova però un super Cristofoli che si allunga e mette in angolo. E dal calcio d'angolo poco dopo Motta sigla la sua tripletta personale. Una giornata insomma da ricordare per il bomber, prima tripletta in eccellenza. Sempre Motta fa la sponda di Agostinis che con una rovesciata mette fuori. C'è spazio ancora per un tentativo dell'Azzurra. La conclusione di Gregoric, il muro di Persello fino al 4-0 finale, l'affondo di Amadio. E questo destro poi è un gioiello, una giocata di grande tecnica. Davvero un gol da applausi. Motta vuole esagerare ma viene fermato dalla traversa. Può bastare così il Tolmezzo, è sempre più squadra d'alta classifica, confermato il secondo posto e Brian Lignano più vicino.